Chi sa osservare se stesso ed il mondo senza zavorra mentale, trova la vita più interessante e non viene inquinato dall'orgoglio o dall'avidità. Difficilmente soffrirà di noia o di sensi di colpa inutili. Inizialmente osservare correttamente non è facile, perché il chiacchiericcio del passato, i desideri, i pregiudizi e tutte le forme di esperienza intasano la mente ed impoveriscono interiormente la persona. Chi osserva con la mente libera vede sempre meglio la realtà e non si fa ingabbiare dai venditori di fumo che stanno appestando il pianeta.